Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Bene, anche oggi sono senza Francesco, per problemi di lavoro non ha potuto venire in trasmissione. In prossima trasmissione probabilmente ci sarà solo Francesco perché io sono di turno al lavoro, per cui il prossimo giovedì vi ascolterete esclusivamente Francesco. Bene, mi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista Stragone, guardiano dell'Anticristo e il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marchiera. Di cosa parleremo in questa trasmissione? Di questa trasmissione parleremo innanzitutto del rito dell'equinozio di primavera che terremo presso il Bosco Sacro di Jesolo, sabato 24 marzo. Sabato 24 marzo terremo il rito dell'equinozio di primavera, celebrando la nascita. Ogni nascita, perché la nascita è lo sviluppo della conoscenza delle persone. I riti che organizziamo sono delle vere e proprie operazioni magiche, il cui scopo è da un lato finalizzare l'attenzione e l'intento dei partecipanti e dall'altro chiamare le forze del mondo, la loro attenzione, affinché allineino i loro intenti ai nostri intenti, i loro propositi ai nostri propositi. Il rito è una manifestazione collettiva in cui i partecipanti fondono la propria attenzione e armonizzano i loro intenti, che in questo caso è la partecipazione alla costruzione della vita, alla costruzione del futuro, all'interno di un mondo che alimenta i propri intenti e che pertanto manifesta attenzione a quanto può favorire i suoi intenti. Posso ritenere che non tutte le persone che partecipano al rito abbiano familiarità con gli dèi del mondo e con gli dèi che noi citiamo negli inni che abbiamo scelto di recitare durante questo rito. Questa è l'ultima cosa che ci interessa. Tutte le persone che partecipano ai nostri riti hanno passioni, hanno tensioni, hanno desideri, hanno potere e volontà di rappresentare se stesse nella vita. In altre parole, manifestano nella loro esistenza le qualità e le azioni nelle quali noi vediamo l'espressione degli dèi del mondo. E loro stesse, quando pensano che in ogni azione hanno manifestato un aspetto del loro divino che trova riscontro nel divino oggettivo del mondo, sono pervase da una forza che le spinge ad andare oltre, ad orare, ad affrontare ciò che prima, magari, incuteva loro paura o timore. Ed è il senso del rito. C'è il rito, il rito religioso del paganesimo politeista, è il momento in cui la persona si espone, si espone davanti al mondo e davanti al fuoco. E quando si ritrova il giorno dopo ad affrontare la vita, si accorge di essere esattamente nella stessa situazione rituale. Cioè, quotidianamente, noi abbiamo il fuoco delle contraddizioni, il fuoco dei problemi che la vita ci pone, il fuoco delle necessità che la vita ci pone davanti. E se noi riusciamo in quel momento, nel quotidiano, in ogni nostro quotidiano, a visualizzare quel momento in cui eravamo davanti al fuoco, in cui avevamo recitato quell'inno, in cui abbiamo detto al mondo, io sono, ebbene, ci ricordiamo, in ogni attimo quotidiano, di dire, io sono. Cioè, di avere la forza di prendere nelle nostre mani la responsabilità delle nostre scelte e di agire in quel quotidiano. Certo, nessuno ci dice di cambiare assolutamente le condizioni di vita, questo non potremmo fare nemmeno noi, però il rito ci dà la forza il giorno dopo di continuare a fare le azioni per le quali noi viviamo. Cioè, ci dà il coraggio, ci dà la determinazione, ci dà l'energia e ci dà la consapevolezza che un conto essere davanti al fuoco del rito e riuscire a ritrovare il fuoco del rito davanti ad ogni quotidiano, ci dà la forza della rappresentazione di noi stessi. Ed è il potere di essere che nasce, che cresce nelle persone, proprio attraverso la partecipazione dei riti pagano-politeisti. Inizialmente chi ha partecipato ai primi riti sei, sette anni fa, non si accorgeva di questo, perché è un crescere lento che c'è all'interno della persona, cioè il potere di essere cresce in maniera abbastanza lenta nella persona, non si sente subito. A volte crea anche dei problemi nella vita, però fa emergere tutta la forza e la determinazione della persona. La persona si scopre ad un certo punto a fare delle cose che non avrebbe mai pensato di essere in grado di fare. scopre di avere forza, potere, determinazione di rappresentare se stessa davanti alla vita. Ed è un accumulo che è avvenuto nelle persone durante questi riti che abbiamo fatto e che in effetti le persone sono cambiate in maniera incredibile nel corso degli anni. Prendiamo il discorso, poi all'interno di questi riti ci sono i discorsi sugli dei, gli inni che noi facciamo e che arbitrariamente abbiamo scelto, ho scelto e poi sono stati accettati. Questi inni l'ino a Zeus è parte dell'ino omerico a Zeus è dedicato è indicata l'attività di Rea per far nascere Zeus e proteggerlo dall'oblio del tempo dall'essere mangiato da Crono e come nel manifestare questo intento il mondo accorre il mondo nelle sembianze delle ninfe dell'ape della capra della terra che si sgrava delle acque i curetti i curibanti c'è in quest'inno l'ino a Zeus l'essere femminile l'essere umano femminile che manifesta la vita e ne protegge la costruzione del futuro e non è questa forse un'azione che dovremmo sempre tenere presente nel nostro essere persone religiose pagane l'altro è l'inno a Pan è sempre l'inno a Merico a Pan anche questo ci sono vari aspetti nel comportamento di Hermes che dobbiamo sottolineare come corteggia Driope come protegge il figlio quando la madre fugge e come Driope che simboleggia che come simbologia del mortale si ferma la forma apparente abbia il diritto di fuggire mentre Hermes non vede la forma del figlio ma vede la qualità del divino che il figlio esprime e accorre veloce e anche queste sono azioni che noi dovremmo sempre tenere presente come pagani politeisti nell'inno ad Atena c'è la nascita della Dea la Dea che col giavellotto esce dalla testa di Zeus e col giavellotto in mano minaccia Zeus stesso non solo l'essenza stessa dell'Olimpo ma la ragione fondamentale della sua nascita cioè come nasce Atena gli dice a Zeus io sono nata da te ma non ti appartengo io appartengo a me stessa e anche questa è una cosa che noi dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti un altro inno è un pezzo dell'uscita dell'anima verso la luce del giorno un inno egiziano in cui la persona che si presenta alla porta degli dei ribadisce c'è il principio in forma egiziana dell'ino omerico ad Atena e dice io sono un dio e voi mi dovete accogliere ed è la determinazione che tutti gli esseri umani dovrebbero avere davanti alle condizioni e alle contraddizioni della vita nel paganesimo gli dei non si supplicano gli dei si evocano cioè gli dei si chiamano con gli dei si cammina assieme ma non ci si mette in ginocchio non si prega perché la vita appartiene a ogni essere che germina nella vita stessa e nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno viene ribadito lo stesso principio che Atena esprime quando esce dalla testa di Zeus solo che qui si tratta di un individuo che pretende di essere riconosciuto come un dio e continuare nella propria sequenza dei mutamenti e rivendica davanti all'infinito quanto egli ha manifestato durante la vita quanto egli ha rappresentato quanto egli ha meritato nel corso della sua esistenza si tratta della qualità del giavellotto di Atena il giavellotto con cui Atena minaccia Zeus altro non è che la somma di tutti gli sforzi strategici che gli esseri figli di Hera gli esseri della natura hanno fatto nella loro esistenza ed è con quel patrimonio di potere che un essere umano ha costruito nel corso della sua esistenza che forge il suo giavellotto o se vogliamo la sua determinazione con cui si presenta alla morte del corpo fisico e alla nascita del corpo luminoso e pretende di essere accolto nel nuovo mondo e anche questo è un principio fondamentale del paganesimo politeista cioè in pratica in questi inni che abbiamo scelto abbiamo scelto di rappresentare delle forme fondamentali del paganesimo politeista Rea che partorisce Zeus e lo protegge affinché Cronos non lo divori abbiamo Driope che partorisce Pam Driope scappa perché Pam è orribile ma Hermes se ne prende cura e lo porta alla dimora degli dei abbiamo scelto la nascita di di Atena perché Atena esce dalla testa di Zeus ma non si sottomette a Zeus non è roba di Zeus e il primo su cui punta la lancia Atena è proprio Zeus e l'altro inno è l'uscita dell'anima alla luce ediziano il cui senso è quello dell'uomo della donna dell'essere della natura che morendo partoriscono il loro corpo luminoso e si presentano in un altro mondo con tutta la loro forza e con tutta la determinazione che hanno costruito nella loro vita poi a questi inni abbiamo aggiunto degli inni più antichi ed è il Carmen Saliare e quanto ci è rimasto degli antichi di Roma e quando dico gli antichi di Roma in questo caso mi riferisco agli antichi tanto antichi che già nel quinto secolo avanti Cristo non si conosceva il significato del Carmen che forse un bambino che nasce conosce il senso dell'esistenza nelle sue fasi fetale che forse il nuovo inteso come relazione degli uomini col mondo non è generato del vecchio che precedete il presente come una trasformazione continua che senso potremmo dare alla frase dell'uscita dell'anima alla luce del giorno attraverso le mie numerose nascite se non che il presente è generato da quanto lo ha preceduto e ciò che sta nascendo nei riti che facciamo non è forse il nuovo è il nuovo che nasce onora e rende omaggio a quanto lo ha generato ma è pronto a puntare addosso il suo giavellotto se il vecchio tenta di imporsi anziché camminargli al fianco ne gioi il saggio Zeus noi onoriamo ciò che fu ed agiamo nel presente per costruire ciò che sarà non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tener presenti come pagani a questi inni è aggiunto l'inno al serpente che è una visione cosmologica della vita significa molte cose ma lascia le persone cercare il significato che vogliono una sola cosa mi interessa in questo momento sottolineare dal punto di vista della stragonaria quando un popolo è in pericolo e sta per essere annientato da preponderanti forze nemiche al suo interno nascono gli eroi chi sono gli eroi tutti coloro che mettono in atto delle azioni quelli che fuggono quelli che disertano quelli che restano quelli che si fanno ammazzare per resistere quelli che fanno ammazzare altri per resistere o per sopravvivere vedo già nasi che storcono i bocchi schifati io parlo di stragonaria che si sviluppa nell'arco di molte generazioni chi è fuggito ha sottratto se stesso reputando che la situazione attuale non era salvabile quelli che disertano hanno salvaguardato la possibilità di costruire la vita nonostante la presenza del nemico quelli che restano hanno scelto di vivere nonostante tutto quelli che si fanno ammazzare hanno deciso che forse non c'era una possibilità quelli che hanno fatto ammazzare gli altri ritenevano che fosse l'unico modo per salvare il salvabile nonostante le nostre bocche schifate erano tutti degli eroi dopo una generazione i loro figli ovunque vivano sono il fiore della vita questo è il serpente è la vita che si fa strada nelle infinite condizioni oggettive in cui si presenta la vita intesa come germinazione e trasformazione del luminoso che noi chiamiamo dei e la nascita e la vita che si sviluppa sempre nonostante tutto non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presente come pagani politesti ed ora parliamo dell'organizzazione materiale e rappresentativa del rito l'accensione del fuoco rappresenta la ricerca della conoscenza l'accensione della consapevolezza delle persone delle necessità di manifestare se stesse il fuoco si manifesta vive arde si alimenta e si spegne forse che la nostra esistenza è diversa o forse non dovremmo essere consapevoli che prima o dopo ci spegneremo anche noi il girare attorno al fuoco è un antichissimo rituale che al di là della simbologia ha le peculiarità di concentrare in un vortice l'energia di partecipante attraverso la loro attenzione e il loro intento il fuoco è un'entità consapevole capace di rendere uniti gli intenti di chi vi gira attorno parliamo del rumore i suoni i suoni confusi i suoni rumorosi è un modo per variare l'oggettività nella quale siamo immersi e chiamare gli enti del mondo a partecipare a quanto facciamo non si tratta del solo suono ma del fatto che il suono porta a noi stessi la nostra attenzione e il nostro intento nel rito del quinozzo di primavera c'è un intento ulteriore fermare il tempo fermare il tempo è un concetto dell'antica religione in cronos che viene fermato dai cureti affinché non diventi consapevole che sta per nascere il figlio che lo detronizzerà fermare le trasformazioni degli enti del mondo affinché gli enti del mondo siano consapevoli che noi esistiamo manifestando i nostri intenti mentre nel sostizio d'estate il passaggio in mezzo ai fuochi simboleggia i partecipanti al rito sono passati tutto e spesso più volte fra i due fuochi per simboleggiare la fusione fra il fuoco che arde dentro di loro e il fuoco della vita che arde dentro ogni essere nell'equinozio di primavera il passaggio fra i fuochi simboleggia della nascita degli individui la nuova nascita che non è intesa come nascita ma anche come trasformazione soggettiva che ogni decisione soggettiva presa in relazione al mondo nel quale stiamo vivendo comporta per noi e come cambiamento in noi è la primavera che decide il nascere è Persephone che decide di uscire dall'ade è il noi stessi che sgorga dopo che abbiamo deciso questa o quella cosa parliamo del grande cerchio che facciamo di candele che costruiamo estremamente a rito quando mai nella disperazione della vita non esiste almeno un lume che ci indica da dove uscire quando mai non avremo un perché che ci indica l'intento per costringere i denti e i pugni e poi avremo sufficiente potere sufficiente velocità per afferrare l'opportunità che si presenta le candele sono dunque le opportunità che il mondo ci offre le opportunità che gli dei manifestano ai nostri confronti quale padre o quale madre dirà a suo figlio fa del tuo meglio oggi attrezzati fornisciti di strumenti al fine di afferrare al meglio le opportunità che nel futuro si presentano lavora oggi il rito collettivo dell'equinozio di primavera si conclude con il cerchio di ringraziamento nei confronti di chiunque ha partecipato capitalizzando con gli altri la propria attenzione la propria energia e il proprio intento ringraziamo noi stessi e gli dei del mondo che si sono compiaciuti di assistere e di fondere con noi i loro intenti quando il cerchio di ringraziamento è concluso l'energia dei presenti rimane sul luogo a disposizione di chiunque per questo motivo ogni persona che ha partecipato al rito ha il diritto di esprimere quanto egli intente intende e quanto egli desidera per portare a termine i suoi progetti così può mettere in atto i propri rituali personali al fine di raggiungere i propri obiettivi può usare quell'energia e quell'attenzione per alimentare le proprie azioni e da sbocco ai suoi desideri e alle sue tensioni la abbiamo chiamato gli dei per i grandi progetti ma i grandi progetti si alimentano attraverso attraverso i progetti individuali e anche questi noi vogliamo che vadano a buon fine in fondo a volte è sufficiente che le forze del mondo mettono un atomo della loro energia nella nostra attenzione e noi siamo in grado di afferrare la candela che ci serviva nel momento in cui ci serviva un atomo in cambio di un progetto d'esistenza che alimenti il progetto che lo mette in atto è il mondo in cui il soggetto vive un buon scambio sia per gli dei e gli uomini che per gli dei forze del mondo nessuna supplica ma il reciproco mutuo scambio questo è il senso del rito dell'equinozio di primavera quando è che si terrà dunque il rito dell'equinozio di primavera? si terrà sabato 24 marzo l'ultima ora per arrivare l'ora più tardi è alle 17 e 30 se qualcuno arriva prima nel pomeriggio dà una mano a preparare il luogo del rito però quello che è importante che noi sappiamo è che il rito dell'equinozio di primavera ha la capacità di manifestare gli intenti delle persone in funzione della nascita il concetto di nascita nel paganesimo puliteista è un concetto di nascita continua cioè di cambiamento di modificazione continua dell'individuo all'interno della propria vita attraverso le proprie scelte e attraverso le proprie decisioni per cui il rito ha questa funzione quello di mettere di legare gli intenti della singola persona con gli intenti del mondo e vi assicuro che le persone che sono passate in questi anni nel fuoco hanno compreso il significato dei riti pagani quello che vi ho letto è un testo che in internet relativo all'equinozio di primavera ed è datato 2004 il 2004 era praticamente il secondo anno che facevamo questi riti adesso praticamente è il quinto anno che facciamo il rito dell'equinozio di primavera ormai il bosco sacro è riconosciuto come luogo di culto della religione pagana politeista tutti sanno a Iesolo dov'è che cos'è il bosco sacro tutti sanno che si tengono riti religiosi a scadenza a scadenza fissa abbiamo introdotto quest'anno il rito religioso del giorno pagano la memoria che abbiamo fatto il 24 febbraio a proposito vorrei comunicare che il filmato del rito è già stato caricato in internet e ormai è diventato una tradizione questo rito dell'equinozio di primavera dal mio punto di vista è il rito più magico che ci sia per le persone cioè ha un potere e una magia che è superiore a qualunque altro rito il rito del sortizio d'estate è il rito della conoscenza è il rito dell'equinozio d'autunno è il rito del silenzio sono riti attraverso i quali noi ricordiamo la vita attraverso la quale i pagani politeisti rinnovano le loro energie nell'affrontare il mondo e nel vivere le conoscenze e le contraddizioni del mondo questo è il senso del rito del paganesimo politeista ormai torno a ripetere sono molti anni che facciamo questo rito quando avevamo iniziato a fare i riti dieci anni fa si dovete spiegare molto perché si facevano i riti pagani ho dovuto usare molte parole recentemente con un'email in internet qualcuno mi ha ricordato che c'era ancora il documento in internet del 1999 98 99 in cui discutevamo ancora sul senso dei riti ebbene da allora adesso invece le persone che hanno partecipato ai riti quelle che hanno mantenuto una certa sistematicità nel partecipare ai riti hanno potuto constatare di persona cosa significa il rito cioè lo hanno vissuto sulla loro pelle e hanno sentito l'importanza della partecipazione dei riti capisco che chi vive all'interno di una religione monoteista una religione cristiana il rito è solo un momento in cui il prete cattolico riafferma il suo dominio sulle persone cioè il suo dominio sulle pecore del suo grece ma nella religione pagana politista questo non è cioè il rito è il momento in cui ogni singolo individuo alimenta di energia le sue strategie di vita ed è questo che è importante ed è da sottolineare ed è questo che faremo sabato 24 marzo l'ultima ora è alle 17.30 presso il bosco sacro a Jesolo via Cagamba settima traversa vi ricordo numero 3 4 3 e se qualcuno arriva prima del pomeriggio meglio perché così mi da una mano a finire di preparare quello che è il luogo del rito dopo il rito chiaramente andremo a mangiare una pizza in pizzeria al cui appuntamento per il rito dell'equinozia di primavera presso il bosco sacro di Jesolo giorno sabato 24 marzo bene e visto che anche oggi sono senza Francesco però oggi non vi farò un testo particolare un discorso particolare perché ormai la situazione nazionale mi sembra che stia abbastanza degenerando quindi